Sono ormai 13 anni che mi occupo della gestione recupero crediti e calcolo provisioni agenti in azienda, ma la dinamicità del mio lavoro, il fatto di poter parlare con tutti i miei colleghi e di essere un supporto concreto internamente ed esternamente hanno reso tutto questo tempo una bellissima esperienza lavorativa da vivere. L'aspetto umano è il vero protagonista della mia quotidianità perché il mio è un compito doppice. Da una parte devo restituire all'azienda e dall'altra entro in empatia con il cliente o l'agente. Cerco di trovare una soluzione e di mediare. Io penso che ripresa sia la parola giusta per descrivere il gruppo Cervisa Ricchetti perché riassume tutta la passione, la voglia di migliorarci e di raggiungere il futuro che ognuno di noi ha in azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.